E' il sindacarista della CGL a retina Marco Guadagna a confermarci che la CEI di Toscana SRL ha attivato la procedura di licenziamento per 25 addetti su 30 che lavoravano nei negozi di Arezzo e del Valdarno a marchio Pantamarket. Forza lavoro che proveniva da due fallimenti, Conze e Cadla, e che adesso si ritrova a casa. La decisione è stata presa, ci spiega Guadagni, lo scorso 8 agosto dopo due incontri, uno presso la sede dell'ASCOM e l'altro in provincia, durante i quali, nonostante la volontà di proseguire l'attività ma con un grosso ridimensionamento del personale, non si è arrivati ad un accordo. La società CEI di Toscana SRL aveva riaperto il punto vendita ex cons con la formula dell'affitto d'azienda. Il cash and carry che si trova lungo la Sette Ponti era al servizio di ristoranti, pizzerie, bar ma anche famiglie con partita IVA. I lavoratori, aggiunge ancora Guadagni, non potranno beneficiare della cassa integrazione perché non vi erano le condizioni per poterla richiedere. Andranno in disoccupazione e chi può riattiverà la procedura della mobilità che era stata messa in piedi con il fallimento ex Cadla.